benvenuti io sono il cencio e questo nuovo episodio di silent hill 3 siamo sempre qui nell'assordante sgocciolio dell'underpass sentite che ma mi piace tantissimo questo suono ambientale dell'acqua che gocciola nel cemento proprio fatto bene proprio bello e nell'ultima puntata abbiamo esplorato praticamente i corridoi di quest'area di gioco che abbiamo visto essere molto lineare e con scelte di design un po un po così tipo questa qua che ti one shot l'abbiamo vista quella del treno e quella del fantasma pure che io sono riuscito a evitare subito alla stragrande e quella grazie a dio si poteva evitare questa no cioè se non sai la storia del phon non ti viene in mente di buttarlo in acqua qui arrivi e ci crepi malamente cosa come vi ho detto piuttosto sgradevole ma di gran voga questa mi sono dimenticato di dimensionarla di gran voga negli anni 80 90 queste meccaniche di gioco ingiustamente punitive perché questa non è una punizione del tu hai sbagliato e muori no qui è non sapevi una cosa e sei morto e come facevi a saperlo e si ci sono un paio di indizi ma è tutto piuttosto random è difficile capirlo davvero questa cosa in realtà succedeva spessissimo negli anni 80 90 per esempio l'esempio più di spicco che mi viene in mente questo solo i più vecchiarelli come me la potranno conoscere succedeva spessissimo nei famosissimi libri game di lupo solitario chi di voi li ha mai letti e giocati lo so che qualcuno gli scenderà la lacrimuccia c'erano quando ero più piccolo io negli anni 90 andavano di gran moda questi libri che erano libri da leggere ok però fatti a gioco che si chiamavano libro lupo solitario in cui tu praticamente leggevi la storia di questo lupo solitario questo eroe in questo mondo fantasy e tu dovevi prendere delle decisioni nel libro no tipo leggevi la tua pagina che raccontava quello che succedeva e alla fine della pagina ti diceva adesso cosa fai prendi il il ponte per andare dall'altra parte del fiume vai a pagina 70 oppure decidi di attraversare il fiume a nuoto vai a pagina 50 no e tu prendevi la tua decisione andavi a quella pagina lì e continuare a leggere ecco quei libri li stupendi divertentissimi però era pieno di stecazzate così in cui tu tipo decidevi ok prendo il ponte vai a pagina 70 e il ponte era di legno marcio tu non l'avevi notato come ci metti i piedi crolli caschi giù sotto svieni affoghi gg ricomincia da capo tutto il libro what the fuck e non era divertente perché ricominciare da capo il libro non era divertente barare quindi tornare indietro e prendere l'altra chance non era divertente lo stesso e quindi era un grosso difetto però come ripeto in quegli anni lì andava moltissimo questa roba del one shot sei morto va bene ok grazie andiamo avanti ci teniamo a dirvelo perché serve a contestualizzare queste scelte di game design è pur vero che questo silent hill 3 ricade nel 2003 però si trascinavano ancora e queste usanze anche nei primi anni 2000 e voilà un altro corridoio bloccato il bidone blocca la strada quindi andiamo dritto come al solito ok siamo in un altro tunnel siamo dall'altra parte giusto giusto siamo dall'altra parte della zona bloccata perfetto e qui e qui abbiamo solamente qua che sarà ovviamente bloccato perché non va da nessuna parte qui ci sarà l'uscita probabilmente forse si ritorna di sopra vediamo oh shit a regola dovremmo sbucare qui vediamo vediamo andiamo a vedere ecco lì prima vediamo qua se è ovviamente bloccato ecco lì qui è chiuso si aia maledetto come mi ha preso ah no si scende ancora meraviglia sono sti suoni vediamo se lo rifà il loop no mi sa di no ok finalmente si risale finalmente si risale oh vediamo attenzione non riesco ad entrare c'è un cancello di ferro che blocca l'accesso ma è bellissimo è bellissimo sti suoni sono stupendi ok siamo siamo in superficie sì sembra che siamo proprio in superficie in un cantiere eh però questo edificio con le finestre tipo tutte così e da qui si entra cantiere esattamente ora come vi state vedendo io non sto facendo salvataggi multipli come invece ho fatto nella stragrande maggioranza dei giochi e soprattutto come ho fatto nei precedenti Silent Hill perché questo Silent Hill e qui mi dispiace dover dire un'altra cosa negativa riguardante questo Silent Hill sostanzialmente non ha finali multipli nel senso ci sono ci sono ben tre finali diversi ma nessuno nessun finale aggiuntivo è sbloccabile nella prima partita nel new game quello che stiamo facendo noi quindi la prima volta che si gioca a Silent Hill 3 si ha solamente un finale possibile che tra l'altro è il finale canonico e come finisce veramente la storia poi volendo si può andare in new game plus e tramite l'utilizzo di determinati oggetti sbloccare il classico ed immancabile finale ufo che è il finale comico stupido no satirico e un altro tipo di finale brutto brutto perché è praticamente uguale al finale normale cambiano alcuni dettagli è un po' più brutto poco sensato insomma niente di che e anche questa è una cosa che mi dispiacque tantissimo ai tempi quando scoprì che cavolo ci eravamo abituati a Silent Hill 1 con 4 finali Silent Hill 2 con 5 finali dici uè Silent Hill 3 chissà che finali avrà che spettacolo quanti saranno come si sbloccheranno no, Silent Hill 3 ha un finale solo poi ci sono i due finali stupidi che puoi sbloccare volendo ma sono proprio... è un peccato anche questo sappiamo perché ok entriamo dentro questo cantiere dall'area del tutto non sospetta subito una porta oh cure non c'è elettricità l'ascensore non può funzionare ok ma sentite qualche roba eh... cioè degna di un album ambient black metal sta roba qui eh mamma mia guardiamo bene si è chiusa la porta si è girata anche la telecamera no secondo piano il cartello non obiettato fumare per terra rotta terzo piano oh warning the third level ceiling has crumbled for safety's sake entry is forbidden il soffitto del terzo livello è crollato per sicurezza ingresso vietato la porta è bloccata però noi sappiamo quindi che dal quarto piano il pavimento sarà crollato lo stesso perché se è il soffitto del terzo è il pavimento del quarto quindi dal quarto piano potremo accedere al terzo guarda... guarda guarda che sta telecamera il pavimento del quarto livello è crollato per sicurezza ingresso vietato no ci è andata male al quinto pare anche qui tutto tranquillo ci sono barattoli di vernice nella scatola da usare sui muri suppongo non mi serve, questo è certo sembrano i miei vicini proprio che in questo momento stanno facendo lo stesso casino non so se l'avete sentito nel microfono nello stesso identico momento in cui si sentivano ste botte qui io ce le sentivo nelle pareti cioè è pazzesco un volgarissimo lavandino niente di speciale perché sono volgari lavandino è un gabinetto ok rotta immagino che anche qui non ci sia corrente quindi ok guarda avanti un rotolo di cavo elettrico ed un sacco di cemento non so proprio che farle ok ancora tutto tranquillo non si vede avanti madonna mia blaa un materasso puzzolente vuoi farlo cadere nel buco? sì così possiamo saltare giù perfetto raccogliamo prima tutte le risorse di nuovo passi una bevanda salutare guardate qua si è creata tipo una specie di baraccopoli qua come se ci vivesse qualche senzatetto una casetta fatta di scatoloni di cartone vecchie coperte sembra più un tappeto che vecchie coperte probabilmente ci viveva un abusivo e di qua niente di interessante ok possiamo saltare giù qui siamo al quarto piano quindi dobbiamo stare attenti al pavimento crollato o sfruttarlo per accedere al terzo oh da qui si esce oh mannaggia a voi io rientro no no e dobbiamo passarli vicino per forza non t'alzare non t'alzare si è alzato niente se non possiamo uscire lo buttiamo oh cavolo oh buono sta andando dalla parte sbagliata bravissimo via di qua possiamo fare il giro intorno al palazzo speriamo di trovare una finestra no però possiamo accedere a quello di fronte vediamo di qua questo è in modo che la sparaglia è chiuso è chiuso è chiuso è chiuso è chiuso ok questo palazzo sembra già in condizioni migliori il tavolo è ricoperto di carte però non vedo nessuna informazione utile le targhette nel muro? nemmeno è un termos è vuoto non abbiamo ovviamente la mappa no questa cos'è? share front? oh mamma santa una save room manichini questo mobile guardate per terra sono stati strusciati ecco un manichino senza testa e senza gambe proiettili lo scatolone è pieno di braccia e gambe di manichini questo è l'unico manichino con una testa quelli senza testa hanno qualcosa di strano è come se fossero in grado di vedermi via di qui oddio ecco adesso non ce l'ha più la testa questo questo è sangue ok andiamo via di qui ottimo quindi abbiamo di nuovo una sola strada non abbiamo una mappa quindi non sappiamo con esattezza dove stiamo andando e se ci siamo lasciati indietro qualcosa maledetti Monica santo il dio ok con calma una cosa per volta è una specie di poster sembra che tra poco ci sarà uno spettacolo di danza infatti abbiamo visto una sala da danza di là oh la mappa il top center ok Monica's Dance Studio Storefront Possible Primble and Enos Low Firm One Stop Imports ok terzo e quarto piano e questa è una save room call attenzione cassetti il cassetto è appena aperto deve essere arrugginito non mi riesce a aprirlo un goccio di più ok ci serve qualcosa per fare leva potremmo usare tipo il il tubo di ferro ma ovviamente ci serve uno strumento apposito salviamo salviamo eh mi sa che a quanto pare ci tocca tornare nella sala da ballo perché una mappa quanto sarebbe gradita una mappa ragazzi ma che ho nel cervello allora sì lì ci ha segnato l'armadietto vediamo indietro e questa stanza ah era quella dei mani dei manichini sì era quella dei manichini questa sì che siamo usciti e abbiamo preso questa ok questa era la stanza dei manichini questa è chiusa questa non abbiamo provato ad aprirla perché c'era il panico proviamo poi adesso controlliamo tutte queste stanze qui armadietti c'è un biglietto sulla porta dell'armadietto ho ottenuto una mappa dell'edificio dal signor Harris vieni in ufficio a prenderla l'armadietto non contiene niente di interessante niente di interessante niente di interessante la scatola è pronto soccorso qui dentro abbiamo anche un'ampolla ai 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 tante cure qui ci sono delle foto affisse forse l'amante del proprietario dell'armadietto qui ci sono delle riviste ma niente di importante l'armadietto non contiene niente questo è un calendario è solo un calendario non c'è scritto nulla di interessante ok possiamo andare siamo venuti qui quindi a prendere delle medicine che sprecheremo immediatamente nella sala da ballo perché c'è il panico là dentro vediamo mi pare niente di le grucce bastoni mi pare non ci sia niente lì dentro non ha nemmeno segnato niente quindi fare strage no ce lo teniamo in dubbio mi pare non ci sia niente però avete visto non ho controllato bene 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 quindi in tal caso non sappiamo più dove andare a parare mamma mia ok lo studio legale è chiuso teniamo un po' ok la nostra sinistra questa non l'abbiamo provata ad aprire chiusa di qua poi giusto sì abbiamo due ascensori destra e sinistra e una sola stanza che dà sulle scale me lo immaginavo sulle scale interne da qui possiamo accedere qui siamo al terzo piano vediamo proviamo a salire anzi no perché era terzo e quarto piano proviamo a scendere sarà chiuso sicuro da qualcosa invece no si apre la macchia abbiamo tutti tutti i piani ok facciamo un piano alla volta eravamo al terzo noi andiamo a scendere facciamo secondo e primo adesso no perlomeno non per ora ok mi sa che andiamo al quarto ci sono molti oggetti dietro le scatole ma è tutta robaccia mi piace come viene usato sempre il modo dispregiativo nelle cose il lavandino volgare tutta robaccia e tutta proprio sempre dispregiativo come mai ok proviamo al quarto no al quinto ok ma si poteva ancora salire il tetto fermi tutti sesto non abbiamo la mappa ah sì invece abbiamo anche la mappa del sesto ma non non va ok il layout è identico il layout è identico più o meno abbiamo gli ascensori che non funzionano giusto premo il tasto ma l'ascensore non arriva sarà rotto o cosa ma mancherà la corrente no oddio exit i bagni questo cos'è auto parts è chiuso ci serve una chiave qui anche da qui ecco lì ah da qui possiamo fare tutto il giro ed aprire da dietro oh oh maledetto te come ok possiamo andare nell'altro corridore che è quello da aprire come siamo messi medikit cinque ne abbiamo undici bevande salutari ok dai per quanto sei spastica sbaglio sempre tasto stavo giusto per dirvi mi hanno un pochino gonfiato l'anima questo lo finiamo col tubo senza problemi anzi col mazzuolo ridicolissimo che triste la vita proprio guarda che roba no sta roba è inutilizzabile davvero fa ridere fa ridere è pessimo è pessimo proprio il sistema di combattimento questi si sono beccati una pallottolata ok ora con calma dov'era quel maledettone qui mi pare strano che sia una stanza solo per farci consumare proiettili per la carabina e lì abbiamo bisogno di cioè per la doppietta quanti colpi abbiamo 33 e innanzitutto ricarichiamo la pistola la doppietta è carica e che ci fa malissimo se non lo uccido quel coso devo tirargli due o tre fucilati almeno per stenderlo controllare bene la stanza perché mi pare proprio strano che quella stanza sia così per forza dai hai rotto ecco no no c'è niente proprio una stanza fatta apposta per aia oh ma via 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 niente oh ETHER porca miseria ma siete matti riprendiamo il nostro fido tubo pessimo ma meglio che niente allora qui abbiamo controllato tutto dobbiamo andare solo nel corridoio di fronte esatto oh aperto ah cure grazie su questi scaffali ci sono delle carte e basta niente di utile un crick possiamo usare questo per aprire il cassetto olio carta stagnola e simili non mi servono a niente ok qui c'era solamente il crick questa si sblocca ok shortcut e di qua c'erano altri mille mila novecento miliardi di mostri no 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 di qua mi sa di no 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 è dove ho controllato gli ascensori con calma esatto e rimane una stanza che non ho controllato che è quella questa qua giù ok l'ufficio di di gallery of fine arts ma scherzi a noi piace l'arte quindi un recipiente di ceramica non è proprio il mio stile madonna Eder però ti fa tutto schifo tutta robaccia tutto schifo tutto non è il tuo stile c'è un registro degli ospiti sulla scrivania dell'ingresso il suo titolo è repressore di memorie azzo finalmente un quadro tranquillo e rilassante montagna bello e semplice a meno male finalmente qualcosa che gradisci qui c'è scritto un prezzo vediamo cinquemila che razza di mondo bisogna vedere se sono cinquemila yen o cinquemila dollari ma siamo in america quindi a regola saranno cinquemila dollari e qui manca sembra che qui prima ci fosse un quadro è rimasta solo la didascalia il fuoco purifica tutto fiamma eh beh non so che genere di quadro c'era prima qui ma il fuoco non mi è mai piaciuto mi fa un po' paura chissà perché da qui possiamo accedere al retro dove siamo da qui si va aspetta 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 serratura rotta ma qui non ci si può andare anche dal di qua un cacciavite no è un elenco delle prossime esposizioni della galleria e chi se ne frega ci avrei scommesso che la serratura è rotta non posso aprire la porta e chi se ne frega è il poster per una futura esposizione non molto interessante guarda guarda che roba continua Eder continua è una porta di un ufficio che schifo le è una katana ha una katana ah questa ti piace è un katana ma non me ne serve un altro come no come no andiamo con due katane porca miseria katana questo è un katana è una katana corto circa mezzo metro abbastanza potente e facile da maneggiare speriamo perché finora siamo veramente in uno stato disastrato con le armi ma continuiamo un po' nel ridicolo nel senso andiamo in giro anche con una katana adesso la serratura è rotta però non è male la katana non è male il problema è che è corta quindi è più difficile colpirli ma come avete visto sta a fare che lungo due metri non li colpisce uguale quindi andiamo con un katana c'è solamente quella porticina là sotto che non abbiamo controllato questo ok è quello che dava sul di là io non mi sono soffermato ma vi ricordate perché Eder ha paura del fuoco perché Eder e Alessa sono più o meno la stessa cosa e Alessa è stata bruciata galleria d'arte questo ufficio niente è rotto ok quindi una volta che devo aprire la mappa apro il menu madre sono fortissimo quindi questo piano abbiamo esplorato tutto e abbiamo il cric per il terzo piano con cui possiamo aprire il il cassettino e anzi guarda ci andiamo subito 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 di corsa con la nostra katana l'uscita era di qua questa terzo piano giù di sotto così apriamo il cassetto vediamo cosa ci troviamo e salviamo la partita dov'era? oh di nuovo ma che problema ho? in fondo a sinistra la prima porta poi monica studio questa qui vediamo cosa ci nascondi vediamo 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 ok stavo per aprire la mappa non ci crederete ma stavo per aprire la mappa usa non lo posso usare allora usiamo il cacciavite ok una corda ho della corda della semplicissima corda era in un cassetto dell'ufficio sembra molto robusta quindi la potremmo usare per spostare o sollevare qualcosa di pesante il fatto che abbiamo un crick si usa per alzare una macchina quando si deve cambiare una ruota ok questo lo sapevamo ma cosa ci alziamo non c'è niente mi pare che dobbiamo alzare forse forse dovremo tornare a controllare la sala da ballo devo fare mente locale di tutte le stanze ora mi riguardo la mappa e vediamo un po' dove dobbiamo andare perché al momento sono un po' non saprei dove dirigermi quindi devo rifare mente locale tra mappa e stanze inesplorate e quelle che abbiamo esplorato male tipo quella dove c'è il ciccione e l'insane cancer e la sala da ballo poi vediamo nel prossimo episodio vedremo dove andare a parare sicuramente qualcosa mi viene in mente alla prossima per la prossima